Ciao bambini! E questi? Cosa sono? Me li avete lasciati voi? Questa che c'è scritto? Cara Rosi, per premiarti ti abbiamo lasciato due denetti scolastici con due sorprese dentro. Vi posso fidare? Vediamo, guardate, abbiamo due zanni, Super Pigiamini e Lollo. Apriamo premiati Super Pigiamini, che il meglio si apre per ultimo, ricordatevi. Che bellino, guardate, PJ Maxx, c'è Guffetta, Zeko, Gattoboy, ci sono proprio tutti e tre. Vediamo, apriamolo. No! No! Sapete cosa mi è uscito? Mi sono uscita le uova di cioccolato! Della Dolci Preziosi, no! Che super sorpresa! Voi mi sa che non lo sapete, ma io sono super golosa! No, ne apriamo? Ce ne sono diversi! Vediamo, quello rosso. Si apre da qua, vedete? Voi state qui? Cominciamo ad aprire quello rosso, allora bambini? Uno, due, tre! Guardate, è tutto rosso. È fatto un po' strano. Vediamo. Apriamolo. Cosa c'è? Cucchiaino e regalino. È uscito Gattoboy! Guardate, guardate, apriamolo. Che carino! Chissà se riesco a collezionarli tutti. Poi ovviamente abbiamo l'uovo di cioccolata, che contarrà cioccolata. Ecco qui. Vediamo, vediamo, vediamo. Come sono, confettini? E c'è anche la cioccolata! No! Che buono! Tutta sciolta, però io la metterei prima un po' in frigo. Che dite? Dopo la cioccolata, prima voglio vedere le super sorprese. Vediamo questo. Un altro uovo! Sentite che rumore che fa! Ehi, apriti! Ma, è uscito un altro Gattoboy! Uffi! Io volevo completare la collezione! Proviamo ad aprire questo adesso. A me sembra uguale l'altro, solo che è di un altro colore. Vediamo cosa contiene. Ah! L'ho parto dalla parte sbagliata! No! La parte giusta! Roppiamolo tutto! Dai, bambini, rompiamolo tutto! Dai, 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 dai! Speriamo che non esca un altro Gattoboy! Ma, dov'è l'altro? Ma, è questo? Io mi aspettavo un personaggio! Bambini, guardate qua! Ah, ah, mi toccherà usare il taglierino. Non ho usato la casa. Ok. Ce l'abbiamo fatta, vediamo, vediamo, vediamo. Ah, sono un tattoo! Vedete qua c'è Gekko? Come si chiama lui? Non mi ricordo. E qua c'è anche il suo simbolo. Dai, ci può stare. Questo io lo cerrei per Laura, se no ci effende. Non ditele che ho aperto quattro uova. Ditegliene che ne ho aperta una. Una a testa. Va bene, e adesso la nostra sorpresa più importante. Questo benetto lo regaliamo su per Alex. E questo è per me, ovviamente. Vediamo cosa c'è. Pronte? Ma guardate, ci sono... Lei che è? Lei è diva, vero? Lei è diva e lei... Non so come si chiami. Sapete come si chiama lei, bambine? Io non me lo ricordo. Vediamo innanzi. Ma c'è anche dietro. No, è bellissimo. Vediamo come mi sta. Uno. Mi sta un po' stretto, mi sa. Allora? Sono pronta per andare a scuola? Dai, vediamo le super sorprese. Vediamo, vediamo, vediamo. È qua? No, guardate che bello. Ci sono tre LOL con i vestiti cambiati. Una. Due. E tre. Sapete dirmi come si chiamano loro? Ma non sapete dire? Io non lo so. Ho perso il fogliettino. Aia. Andiamo col secondo strato adesso. Eccolo. Apriamo. Ci sta un sacco di roba qui dentro. Vediamo. Uh, guardate che belle. Noi siamo le LOL. Come ci chiamiamo? Abbiate pazienza. I tutti i nomi non li so. È veramente, veramente bellino. E qua dietro c'è qualcosa? No? Comunque, allora, recensione. A me piace ovviamente più lo danetto delle LOL. È più grande e ha due tasche. I regali... Sì? Possono andare. E voi quelle preferite? Scrivetemelo qua sotto. Ci vediamo nel prossimo video, bambini. Ciao! Ciao!